Il DPCM 3 dicembre 2020 è l'ultimo atto che ha introdotto le regole da osservare avuto riguardo alla caratterizzazione della regione e quindi se è di colore giallo, colore arancione o di colore rosso e quindi nell'ambito di questa caratterizzazione vi sono delle specifiche disposizioni. Il decreto legge 172 del 18 dicembre 2020 ad integrazione delle disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020 ha previsto delle novità in ordine alla mobilità dal 24, 25, 26 e poi nei giorni 31, 1, 2 e 3 la regione Campania e tutte le regioni d'Italia diventeranno delle zone rosse. Che cosa è previsto? Prevede il decreto legge in ordine alla mobilità. Nei giorni prefestivi e festivi è prevista la possibilità dalle 5 di mattina massimo fino alle 22 di sera di poter far visita a propri congiunti nel limite massimo di due persone. A tal fine nel conteggio ai fini della regolarità si trascurano i passeggeri che siano inferiori ai 14 anni e le persone con evidenti e documentate condizioni di disabilità. Quindi una famiglia che avesse un minore, marito e moglie e il minore possono far visita ai prossimi congiunti nell'ambito del territorio regionale e ovviamente questo vale anche se hanno delle persone con disabilità. Quindi dalle 22 alle 5 di mattina permane il divieto assoluto di circolazione. È sempre consentito lo spostamento per motivi per stato di necessità, motivi di salute o motivi di lavoro. Nei giorni invece diversi, qui parliamo del 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio, è consentito per le persone residenti nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti di potersi spostare dal comune di residenza e poter recarsi in altri comuni per una distanza massima di 30 chilometri e mai per raggiungere un capoluogo di provincia per poter evidentemente procederla all'approvvigionamento di quello che serve alle proprie famiglie. Noi abbiamo eletto in questo la razza perché i comuni più piccoli non hanno una efficiente catena di distribuzione sia alimentare che farmaceutica. Quindi permettere alle famiglie, alle persone che vivono in questi piccoli centri di potersi spostare magari in comuni limitrofi che hanno una buona rete di distribuzione permette non solo l'approvvigionamento ma di farlo anche risparmiando e quindi queste persone possono nei giorni che ho indicato spostarsi dal luogo di residenza ad altri comuni nel massimo di 30 chilometri. Quindi ripeto, il 28, il 29 e il 30 quando vi è una derubricazione della condizione di colore della regione, delle regioni italiane, quindi da rosso si passa già ad arancione e nel giorno di 4 gennaio è possibile per i comuni, i residenti nei comuni fino a 5 mila abitanti spostarsi per un massimo di 30 chilometri. Ovviamente quello che abbiamo precisato attiene alla mobilità che costituisce la vera integrazione, la vera deroga che ha introdotto il decreto legge rispetto a quanto previsto al DPCM del 3 dicembre 2020. In ordine poi alle attività commerciali segue la disciplina già nota per le attività che ricadono in zona rossa o in zona ragione. Voglio fare un attimo di chiarezza perché ove fosse necessario chiarirlo, per le attività di pubblici esercizi e della catena della preparazione della somministrazione di elementi e bevande che vanno dalla paninoteche, bar, ristorante, sostanzialmente non cambia nulla. Possono, è sempre consentito, non è vero che devono stare chiusi nei giorni 24, 25 e 26 possono, ma così anche per il 27, per il 28 e 29 perché la derubricazione da zona rossa a zona ragione non implica alcuna sostanziale differenza nella modalità dell'esercizio dell'attività che rimane essere autorizzata limitatamente all'asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio senza limitazioni. È evidente e rimane il divieto di somministrazione all'interno dei locali e il divieto di creare assembramento innanzi ai locali. Come notizia ulteriore vorrei aggiungere che l'ordinanza numero 98 del presidente della regione Campania di Luca che aveva introdotto un'ulteriore misura restrittiva in relazione a tali tipologie di attività, quindi alla catena delle attività, degli esercizi di ristorazione e somministrazione di elementi e bevande, era stato introdotto l'obbligo, il divieto di somministrare bevande alcoliche e non alcolico dopo le 11 che aveva determinato non poche polemiche e cessata la vigenza di quell'ordinanza alla mezzanotte di ieri ultimo scorso. E quindi ad oggi vale la disciplina delle zone arancione e della zona rossa così come prevista dal DPCM e dal decreto del Ministro della Salute. Colgo l'occasione, cosa che ho già anticipato su un post in occasione di una colletta alimentare che abbiamo deciso volontariamente di proporre in favore dei più bisognosi, non abbiamo voluto nemmeno conoscere chi fossero i destinatari ma ci siamo affidati totalmente alla Croce Rossa di cui abbiamo alta considerazione, stima e rispetto. E quindi voglio cogliere l'occasione per formulare i migliori auguri di un sereno Natale a tutte le famiglie della nostra comunità e così come ho detto in modo particolare a coloro i quali hanno sofferto disagio economico sociale e con l'augurio che la Polizia Municipale possa essere sempre al fianco della gente e considerata al fianco della gente. Voglio cogliere l'occasione anche per evidenziare che nel momento dell'emergenza quando tutte le istituzioni pubbliche si sono chiuse alla cittadinanza il Comune è stato sempre aperto e segnatamente l'ufficio di Polizia Municipale per essere al fianco della gente, ascoltare i problemi della gente e dove è possibile poter cercare di risolvere i problemi della gente. Un ringraziamento va anche al gruppo di protezione civile che ci ha affiancato, ci ha supportato in tante condizioni sia durante l'emergenza dell'epidemia da Covid sia per problemi legati a calamità naturali e un gruppo che parte da una dotazione di 35 volontari e si appresta ad essere aumentato di ulteriori 20 unità. Quindi la protezione civile, il gruppo comunale dei volontari di protezione civile di Agropoli comincia a diventare una realtà importante, una bellissima realtà importante per la città e anch'essi si affiancano all'attività della Polizia Municipale sempre nell'interesse pubblico e per il bene della città. Grazie. Grazie.